I centri vaccinali restino nel pieno delle loro funzioni. La campagna di vaccinazione deve andare avanti, senza tentennamenti, senza passi indietro. Siamo la regione che ha il minor numero di posti letto in terapia intensiva. Tanti cittadini, per certo, per altri fattori, devono ancora ricevere la prima dose. Molto probabilmente, presto, partiranno le inoculazioni della terza dose. Ecco, non possiamo farci trovare impreparati. Dobbiamo mantenere alta la guardia. I centri vaccinali, dice ancora occhiuto, devono essere pronti e devono restare nel pieno delle loro funzioni. Per questi motivi ho dato disposizione al delegato Covid della regione Fortunato Varone di sospendere tutti gli interventi paventati di riorganizzazione del personale sanitario impegnato nelle attività di vaccinazione, medici e infermieri e delle strutture ad esse dedicate. In questa fase la priorità resta la campagna vaccinale e anche in vista della stagione invernale che abbiamo alle porte, la messa in sicurezza della popolazione. Lo ferma nella nota Roberto Echiuto, presidente della Regione Calabria.